proseguiamo con la nostra natura morta qui andiamo a realizzare il paesaggio esterno una visuale dalla finestra con la campagna e in lontananza al mare come tavolozza useremo questi colori il blu oltremare il blu cian terra di siena naturale l'ocra gialla pallida il verde di cadmio e il giallo di napoli chiaro iniziamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nero, il blu cian, il rosso cadmio e una punta di giallo di Napoli. Nel prossimo video voglio creare con i colori acrilici un bicchiere con dentro un fiore, magari una rosa. Cosa ne pensate? 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 Fatemi sapere con un messaggio sotto al video. Mi auguro che il video sia stato di vostro gradimento. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao! 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 Ciao!